Oh, popolare! È successo una volta, Shankaran Pillai era alla cena di famiglia e quando tutti sono seduti a tavola si alza e annuncia. Mi sposo con Lucy, quella che sta qui di fronte. Spero non si chiami così. Allora il padre dice, cosa vuoi sposare Lucy? Non ha niente, è come una vagabunda, ti sposi con quella Lucy? La madre dice, cosa? Ti sposi con quella Lucy? Lo zio, gli zii si mettono sempre in mezzo in queste cose, lo zio dice, cosa ti sposi con quella Lucy? Hai visto i suoi capelli? Sembrano finti. La zia, cosa? Ti sposi con Lucy? Ma è sempre truccata, vuoi sposare quella donna truccata? Il bambino, il nipote non vuole essere da meno, dice, ti sposi con Lucy? Non sa nemmeno cos'è il cricket, come puoi sposarla? Shankaran Pillai, irremovibile, dice, sì, mi sposo con Lucy. Tutti chiedono in una sola parola, perché? Lui dice, perché non ha famiglia. Non ci sono molte opinioni con cui combattere. Quindi, chi è la persona giusta? Non voglio togliere tutto il romanticismo dalla tua vita. Ma lascia che ti dica questo. Non c'è persona giusta su questo pianeta. Se metti il tuo cuore in qualcosa, qualcosa potrebbe diventare meraviglioso. È la cosa giusta? Non c'è cosa giusta. Nessuno ha mai trovato la persona giusta, da nessuna parte, ok? Se entri in questa mentalità irrealistica, ho trovato la persona giusta, oh, sarei presto deluso. Devi capire che non c'è una persona giusta. La prima cosa è vedere se io sono la persona giusta. Sì, sono la persona giusta? E non ci sono persone giuste su questo pianeta. Se capisci che tu hai i tuoi nonsense e loro hanno i loro nonsense, possiamo adattare nonsense e nonsense e andare avanti. Dobbiamo capire che le relazioni nascono da una varietà di bisogni. Ci sono bisogni fisici, ci sono bisogni psicologici, ci sono bisogni emotivi, potrebbero esserci bisogni sociali, potrebbero esserci bisogni finanziari, vari tipi di bisogni. Quindi, quando vai da qualcuno con così tanti bisogni, ci vai come un mendicante. E un mendicante non può scegliere, no? Il mendicante mangia quello che gli capita, non è vero? Non può scegliere. Quindi, se davvero vuoi fare una scelta in questo mondo, per prima cosa devi portare te stesso a un punto tale in cui la tua esperienza della vita è di per sé piacevole. Sei una meraviglia. Ora, vediamo che cosa viene attratto da questo. Se sei davvero una meraviglia, le cose accadranno, in tutti i sensi, sto dicendo, in termini di carriera, in termini di matrimonio, in termini di relazioni, ti accadrà il meglio, perché tu ti sei reso così. Invece di cercare di cambiare qualcuno e aggiustarlo, se lavori su te stesso e ti rendi così meraviglioso che tutti vogliono stare con te, allora c'è una scelta. E tutta questa cosa è una cosa americana che c'è un'anima gemella da qualche parte. Dio ha fatto proprio un'altra persona proprio per te. Ma di questi tempi, ogni due anni, continua a fare un'altra persona proprio per te. Ovviamente Dio sta facendo troppi errori con te. Vedi, il corpo ha bisogno di un partner, comprensibile. Forse anche psicologicamente hai bisogno di un partner, comprensibile. Emotivamente hai bisogno di un partner. L'anima non può avere bisogno di un partner. L'anima non ha bisogno di un partner. Ne esiste una persona fatta apposta per te, ok? Questa creazione genera ogni tipo di unici idioti. Se capisci che sei un idiota di un tipo e gli altri sono di tipo diverso, tu capirai le loro assurdità perché sai che hai anche tu le tue. Se pensi di essere perfetto e che Dio ti ha scelto e ha fatto un'altra persona perfetta da qualche altra parte, stai andando incontro a un disastro, ok? Non c'è niente del genere. Perfino, sai, la gente oggi, dopo 5.000 anni, la gente adora e venera ancora Krishna come il miglior amante, ma le sue mogli sono scontentissime di lui. Sì, quindi non troverai nessuna persona perfetta. Se ci investi un profondo senso di coinvolgimento, qualcosa di meraviglioso potrebbe accadere. È grazie al tuo coinvolgimento, non perché l'altra persona è fantastica, no? Anche se cerchi un partner stupido, in realtà è facile così. Se non fossero stupidi, intanto perché mai verrebbero da te? No, no, è solo una battutaccia. Allora, anche se scegli uno stupido, non importa. Con il tuo coinvolgimento può diventare davvero stupendo. Se scegli la persona più intelligente dell'universo, potrebbe essere un disastro. Quindi non pensare in termini di questa assurdità del fatti l'uno per l'altro. No, in realtà scegli l'opposto. Ma dopo un po' di tempo inizi pian piano ad aspettarti che siano proprio come te. Questo è un grave errore. Perché se un'altra persona diventa proprio come te, non sarai capace di sopportarla nemmeno per due giorni, vero? Dimmi, se ci fosse un'altra persona esattamente come te a casa, potresti viverci? Sei contento che siano diversi. È meraviglioso. Nessuno è come te. Non è così? Nessuno è come te su questo pianeta. Prova a cercare. Nessuno è come te. Ed è un bene. Non cercare l'identicità. Non è necessario. È per la differenza che si balla il tango, non altrimenti. È per la differenza che si balla il tango. È per la differenza che si balla il tango,